Abbiamo visto le immagini di personaggi discursi e discutibili come Donald Trump e Vladimir Putin in manette e abbiamo anche visto il Papa con un lungo Moncler bianco. Si tratta però di immagini che documentano qualcosa che in realtà non esiste. Sono dei deepfake creati da sistemi di intelligenza artificiale che hanno generato stupore e anche un po' di sgomento per le enormi potenzialità di questi sistemi. Che peraltro sono gli stessi che hanno anche creato Claudia, o per meglio dire... Ragazza che nella realtà non esiste proprio perché è stata creata da due studenti con un sistema algoritmico di intelligenza artificiale con il quale questi due furboni hanno fatto qualche centinaio di dollari vendendo foto nude di questa ragazza che come ripeto non esiste. In sostanza il confine fra ciò che è reale e ciò che sembra reale è davvero molto 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 labile e può portare anche a sfociare in reatti da codice penale. Come nel caso dei ragazzi romani che hanno utilizzato l'app Bikini Off, che pare essere popolarissima fra gli adolescenti, per spogliare virtualmente alcune compagnie di classe. In sostanza loro hanno dato in pasto all'app delle foto delle compagnie di classe vestite e l'app ha modificato la foto spogliandole sulla base dei sistemi di intelligenza artificiale. Creando così dei deepfake che hanno spopolato nella scuola ma che hanno comportato per i ragazzi responsabili di questa faccenda una denuncia con grossi rischi dal punto di vista penale. Quindi mi raccomando facciamo sempre molto attenzione a tutto ciò che vediamo. Reale e realistico sono due cose molto diverse.